Massimo Canta di Carta Canta, ciao mister. Settimana scorsa parlavi di leggerezza, di sfrontatezza. Affrontate una squadra che forse è l'emblema di queste caratteristiche. Potrà essere utile per ritrovare anche la vostra? Grazie. Ma noi abbiamo sempre leggerezza, di sfrontatezza. Non abbiamo perso questa cosa assolutamente. Noi abbiamo fatto le ultime due partite e le avete viste contro Torino e contro Napoli. Torino è stata fatta un'ottima prestazione e sappiamo poi com'è andata e cosa è successo. Napoli credo che per gran parte della partita abbiamo fatto un'ottima prestazione per lunghi tratti nel primo tempo, anche parte del secondo tempo a mio avviso. Poi ci sono stati quei sei minuti dove il Napoli ha fatto dei gol da campioni, cose che è anche difficile poi trovare, analizzare, trovare un difetto alla squadra oppure una colpa a qualcuno. Perché fare dei gol così è davvero difficile da trovare il miglioramento. Però al di là di questo, parlavi di leggerezza, noi stiamo bene. Abbiamo affrontato un'ottima settimana. Dobbiamo semplicemente guardare la partita di domani, che è una prestazione che bisogna fare di livello alto, perché sappiamo che affrontiamo una squadra forte in uno stadio molto caldo, con una squadra che vuole ottenere dei punti e cercheremo di misurarci con una squadra che in questo momento è una posizione altissima della classifica e quindi va rispettata al 100%.